benvenuti del tutorial sull'utilizzo del programma di eventi battlefield e questa è la versione desktop che poi potrà collegarsi alla web app online quando scaricate la cartella è in versione portable quindi non dovete installare nulla l'unica cosa che dovete fare è andare a cliccare sull'icona di eventi battlefield solo su quest'icona e si avviera il programma una volta avviato il programma vi ritroverete sulla prima schermata dove dovete aggiungere il vostro nome questo è il nome dell'operatore quindi se lavorate con più computer ogni computer dovrà avere il suo operatore con un nome diverso quindi aggiungete il vostro nome se l'avete già aggiunto in precedenza lo troverete qui adesso io entro come operatore attila e ci ritroviamo all'interno della dashboard dove troverete tutti i vostri album creati eccetera questo è la prima avviamento quindi dobbiamo partire questo inizio di tutorial sarà molto veloce per iniziare a lavorare e poi ci sarà un tutorial di approfondimento con tutte le preferenze eccetera però così partiamo subito a provare il programma crea album quindi andiamo a mettere il primo album prova scegliamo il tipo di evento diciamo sport la data mettiamo quella di oggi e subito andiamo a creare l'album vedrete vedete qua un prova sport alla data di oggi non abbiamo ancora nessuna immagine perché l'andrà a pescare direttamente sull'immagine che poi caricheremo cliccando o sull'immagine su album prova sport entriamo direttamente nell'album qua abbiamo delle impostazioni con tutte le preferenze dell'album le grafiche eccetera che vediamo dopo andiamo subito all'area di lavoro che è il cuore del programma e qua ritroviamo troviamo la nostra schermata con tutte le funzioni la prima cosa chiaramente che dobbiamo fare è caricare delle foto cliccando su upload si aprirà questo che in realtà è un plugin quindi è un programma a parte adesso ci chiede qual è la da dove vogliamo scaricare le nostre foto in linea generale quando lavoriamo durante gli eventi sarà la nostra scheda una volta impostata il percorso della nostra scheda poi andrà a ripescare sempre lo stesso quindi adesso io vado su una cartella qualunque facciamo così ok allora quello che vediamo è caricamento foto nell'album album prova quindi vi assicurate che la state caricando nell'album giusto con la data giusta casomai abbiate due album con lo stesso nome confrontate la data 29 settembre 2024 in questo caso selezionare la cartella da scaricare adesso non ci serve perché praticamente l'abbiamo selezionata al primo avvio e inseriamo il nome della cartella quindi possiamo mettere prima cartella e andiamo su carica file tutto quanto diventa rosso qua si vede che incomincia a caricare e ora questa finestrella noi possiamo anche tenerla giù come vedete sotto anzi forse non lo vedete ma sotto avete l'icona nella barra sotto dell'icone ci sarà l'icona sia del diventi che dell'upload che potete tranquillamente tirare su vedete questo è già diventato verde quindi ha già finito di scaricare le foto ti dice foto caricate 46 quindi sapete quante foto avete caricato questo potete lasciarlo icona non dovete chiuderlo aprirlo ogni volta perché è meglio tirarlo su e giù tramite l'icona che sicuramente è più veloce che chiudere riaprire il plugin ogni volta questo è un pulsante che serve per aggiornare quindi una volta che avete caricato le foto per vederle date un colpo di aggiornamento per sicurezza non servirà sempre perché mentre lavorate il programma chiaramente si aggiorna ma se non fate nulla da quando avete caricato eccetera è bene aggiornare prima cartella mostra foto e qua abbiamo tutte quante le nostre foto vedete secondo tutto molto velocemente allora le funzioni principali chiaramente cliccando sopra le foto io andrò a selezionare delle fotografie una volta che ho selezionato alcune fotografie che mi possono interessare vado sul tasto verde seleziona e in questo caso vedrò solamente le mie foto selezionate posso andare a scorrere le foto quindi vedete scorro le foto e posso anche decidere per esempio di deselezionare una foto quindi queste erano tutte foto selezionate come vedete la selezione mi fa vedere il riquadro verde intorno quando è selezionata quando non è selezionata no una volta che ho finito di scorrere in questo modo faccio back e vedete che mi ritrovo sempre le foto solo le foto selezionate quindi facciamo finta che ho il cliente che vuole rivederle io col tasto più rientro qui nella schermata mi fa vedere le foto che sono selezionate a un certo punto il cliente mi può dire questa non la voglio quindi questa qui la deseleziono torno indietro ed ecco qua che mi rimangono solo le tre selezionate fatto ciò posso stamparle ci sono due modi per stamparle o direttamente quindi qua su stampa facendo così ho già l'impostazione del ritaglio cioè la proporzione della mia foto clicco posso chiaramente cambiare l'inquadratura se voglio fare un ritaglio la proporzione me la mantiene per quello che è la mia stampa cliccando due volte mi parte subito la stampa e questo poi lo vedremo meglio dopo quindi gli do l'ok di stampa io ho fatto quindi molto velocemente vado in stampa clicco due volte e parte la stampa adesso annullo l'altro modo è quello un pochino più lento mi apre una finestra però posso fare in questo caso posso modificare la foto farla in bianco e nero eccetera esposizione luminosità fare le varie i vari cambiamenti una volta che ho fatto i vari cambiamenti devo decidere se farla orizzontale o verticale ci sono dei tasti rapidi che vi consiglio sono scritti qua quindi se la mia foto è orizzontale premo c mi da il ritaglio proporzionato chiaramente alla mia foto e anche qua posso se voglio ridurre qualcosa tagliare la foto cliccare due volte e mandare stampa con il tasto che vedete qui oppure semplicemente premendo s mi parte la stampa ora detto ciò quando ho finito col cliente io posso deselezionare per partire poi con un altro cliente chiaramente mentre fatto faccio tutto ciò io posso scusate ho l'icona già del plugin aperto sotto quindi io posso nel frattempo continuare a scaricare foto vedete che mi riporta sempre all'ultima cartella che ho selezionato quindi una volta che avete impostato la vostra scheda vi ritroverete sempre sul percorso dove andate a cambiare le schede quindi non dovete fare null'altro che ridargli l'ok qua comunque vi da il percorso per sicurezza scrivere in questo caso seconda cartella fare carica file e vedete che mentre lui carica tranquillamente voi potete continuare a lavorare vedete che mentre lavorate si aggiorna in automatico quindi già sta uscendo la seconda cartella sono sempre le stesse foto chiaramente e anche se lui sta finendo di scaricare voi già potete vedere la nuova cartella che sta scaricando fatto questo potete vedere potete scegliere chiaramente come trovare le foto quindi tramite la cartella è la cosa più semplice ma potete vedere scegliere le foto tramite il numero quindi in questo caso posso scrivere 82 83 clicco sul pulsante blu e qua mi tirerà fuori le foto 82 83 chiaramente come avete visto 81 virgola 82 virgola 83 mettendo la virgola potete mettere quello che volete potete scegliere selezionare anche tramite la cartella quindi magari le cartelle hanno il nome del cliente eccetera voi potete mettere anche le prime lettere io per esempio metto prim e mi tirerà fuori la cartella che si chiama prima cartella chiaramente se c'è ci sono più cartelle che si chiamano che contengono la parola prima mi avrebbe tirato fuori tutte quelle che contengono la parola prima un'altra cosa che si può fare è una volta che avete una selezione di un cliente premete sempre selezione ve lo consiglio così vedete quello che state andando a mettere da parte potete salvare la selezione quindi gli do un nome molto semplice premo sul tasto blu e a questo punto io in questo caso dato che non sto facciamo così voi state lavorando tirate fuori a questo punto qua troverò le selezioni salvate quindi io vado alla selezione del mio cliente faccio mostra selezione ed ecco qua la cartella che io ho salvato con la selezione del cliente quando ho finito con questo cliente io posso selezionare questo cliente fare anche elimina selezione semplicemente perché giustamente date un aggiornamento se nel frattempo non avete fatto nulla e vedete che è sparita la selezione quindi io una volta che col cliente ho finito posso anche per non avere poi mille selezioni una sotto l'altra evitare di fare ciò gli altri strumenti che trovate qui potete potete rinominare la cartella quindi io seconda cartella posso decidere di rinominarla come terza cartella faccio rinomina aggiorno sempre perché nel frattempo non ho fatto nient'altro e vedete che adesso la terza cartella è questa qui è questa qui un'altra cosa che posso fare è spostare delle foto e quindi per esempio dalla terza cartella io seleziono le foto le vedo e posso o spostare delle foto in una cartella che già esiste scrivendo per esempio prima cartella quindi dalla terza cartella finirebbero nella prima cartella o addirittura creare una cartella nuova facendo nuova e così queste tre foto le trovo nella cartella nuova ecco qua queste sono le funzionalità tutte le funzionalità base chiaramente perché ce ne sono molto altre che possono servire ha un'altra funzionalità è la dimensione chiaramente che posso di cui posso voler vedere le foto questa piccolina sempre più grandi la stessa cosa lo potete fare con il tasto shift da 1 e 5 quindi se io premo shift 1 sono piccole shift 2 si ingrandiscono 3 e 4 fino ad arrivare al 5 che è la dimensione più grande e quindi potete decidere come scegliere le vostre foto quando ripartite con una nuova scelta ripartete sempre a questa dimensione e poi potete ingrandirle come volete l'ultima funzionalità base è quella dell'email quindi questa foto potete inserire l'email premere invia e inviare questo file via email chiaramente il file sarà quello in alta risoluzione voi in pratica disponete di due file uno a bassa risoluzione e uno in alta risoluzione questo avviene quando caricate i file dentro il programma e io direi che per il tutorial base può bastare questo ah no ne manca un'altra scusatemi è qua lo slide io posso mandare in slide le mie foto quindi scelgo la cartera da mandare in slide devo premere prendi e manda a questo punto ho una finestra di slide questa finestra non devo fare altro che la prima volta quando apro quando parto con il lavoro spostarla nel secondo schermo una volta spostata nel secondo schermo non avrò più bisogno di farlo secondo schermo ovviamente potete avere anche sei sette schermi e diciamo su un computer quattro mettiamola così su un computer principale quattro e sui secondari sempre quattro sono gli slide che potete mandare quindi potete collegare fino a quattro monitor per ogni computer quindi io metterò lo slide uno su monitor lo slide due su un secondo monitor prendi e manda lo slide tre su un terzo fino al quarto monitor una volta che li ho posizionati a inizio dell'evento poi dopo non dovrò fare altro che selezionare fare prendi manda e in automatico andrà sul monitor dove ho messo il primo slide secondo slide eccetera sullo slide abbiamo vediamo il nome della cartella il numero che il cliente dovrà prendere e poi sotto potrà scorrere un messaggio che vogliamo dare noi come un'offerta oppure il nome dello studio eccetera scorrerà qui ma è sempre una funzione avanzata quindi lo vedremo più avanti una volta che avete spostato questa finestra sull'altro monitor mandando lo slide lo slide adatterà la dimensione in automatico in base al monitor quindi se il monitor è più grande o più piccolo in base alla risoluzione lo slide poi si adatterà nella giusta dimensione quindi a questo punto direi che abbiamo visto tutto questo è uno strumentino che può essere per tenere un conto potrebbe essere il conto degli omaggi fatti o non so comunque un contatore manuale chiaramente se io faccio un omaggio lo segno e a fine giornata so quanti omaggi ho fatto andando su impostazioni vi faccio proprio vedere l'ultima cosa che è il modo per cancellare l'album quindi qua devo andare a scrivere cancella album una volta che ho scritto cancella album confermo cancellazione una volta che clicco su conferma cancellazione mi richiede se sono sicuro state molto attenti perchè questo questo cancellerà l'album con tutte quante le foto all'interno dell'album quindi se le foto le volete tenere le dovete mettere da parte fare un backup eccetera quindi questa cancellazione dell'album andrà a cancellare tutte quante le foto tutte le selezioni eccetera eccetera e l'ultima cosa invece questa ve lo dico che mi sono dimenticato perchè non so se può essere base oppure no se io faccio una selezione qua ho le foto selezionate se io deseleziono e quindi elimino la mia selezione ma magari mi sono sbagliato e quindi ho perso 5 minuti a selezionare le foto del cliente e poi per un click ho perso la mia selezione potete recuperare l'ultima selezione fatta quindi cliccando su recupera selezione vi riesce fuori di nuovo la selezione che voi avete erroneamente cancellato oppure il cliente si allontana magari ritorna subito dopo però memorizza l'ultima selezione quindi se deselezionate poi ne fate un'altra chiaramente poi incomincia a memorizzare la selezione nuova ok questo è il primo passo per conoscere il programma il programma ha tantissime funzionalità come quelle della cassa quindi può farvi il conteggio delle foto stampate i file inviati eccetera eccetera potete avere un conteggio automatico qui così l'operatore che sta al computer non si sbaglia e chiaramente abbiamo tutta una serie di impostazioni che possiamo variare secondo le nostre preferenze la velocità dello slider il messaggio la velocità del messaggio la proporzione di stampa se stampiamo tre quarti o due terzi tutte cose che vedremo e soprattutto scusate la grafica quindi si possono mettere i loghi le scritte sopra le foto che poi una volta impostate vengono in automatico bene perfetto qui ritorniamo sulla dashboard come vedete adesso l'album ha una nostra immagine che prende casualmente fra quelle che avete caricato e direi che per questa versione base potete già iniziare sicuramente a lavorare con queste informazioni base e chiaramente potete o seguire il tutorial avanzato oppure sono cose relativamente semplici imparare da solo da soli le preferenze da poter mettere eccetera è tutto abbastanza esplicativo nelle funzioni con login ritorno all'inizio se per esempio io voglio cambiare operatore un operatore cambia computer vuole mettere il suo nome oppure cambio proprio operatore ecco qua che posso andare su login ritornare all'inizio e cambiare operatore perfetto il nostro canale che è vero tutto qui dopo qui